Marianna Sasso, una new entry in giunta, a lei la delega alla logistica? Alla logistica ma credo che in realtà non è altro che continuare quello che facciamo quotidianamente perché diciamo che non ci siamo mai fermati per quel che riguarda gli eventi, per quel che riguarda tutto quello che è turismo a 360 gradi. Io credo che il paese ci sta aspettando quindi al di là di tutto basta continuare quello che ciascuno di noi fa quotidianamente mettendo insieme i talenti, mettendo insieme i pezzi. Quindi io sono orgogliosa di questa nomina e spero soltanto di riuscire a continuare a fare quello che veramente da anni io con un gruppo di persone che mi segue veramente proprio di continuo riusciamo a essere supporto in tutto quello che è evento nel nostro paese e c'è tanto da migliorare, c'è tanto da fare però insieme possiamo farlo in maniera veramente dignitosa e con tanta onestà e capabilità. E finalmente lavorare ad una programmazione che è quello che un pochino tutti gli operatori del settore rimproverano. La programmazione in realtà credo che c'è sempre stata, con un passaggio di consegne credo che sia inevitabile rallentare un po' i tempi, però ci stiamo mettendo in carreggiata ed è l'augurio che la programmazione non venga fatta soltanto dalle amministrazioni ma dagli addetti ai lavori, quindi dagli albergatori, dai commercianti, insieme lavorare diventa anche più semplice e programmare diventa sicuramente una scelta vincente.